La prima, che vabbè, magari Salvini non va sempre ai vertici, anche se va sempre a qualcuno, però è diminuito del 90% l'arrivo ai migranti, questo è un dato oggettivo. La seconda, sempre per la nostra Carola, fa parte di quella club di persone che vengono a fare i fenomeni in Italia perché sanno che se lo possono permettere. Vorrei vedere le stesse cose fatte in Germania dalla signora Carola, oppure semplicemente una nave italiana, con equipaggio italiana, che si presentasse davanti al porto di Hamburgo o di Rotterdam con 40-50 clandestini immigrati da scaricare. Vorrei vedere le reazioni di quei paesi.